Cinema Peroni presenta un film che parla di fama, passione e stile, come durante la Roma, della dolce vita degli anni Sessanta. Con l'apparizione dei paparazzi, una star era nata in una delle scene più mitiche del cinema. Cinema Peroni presenta la dolce vita. Cinema Peroni presenta la dolce vita.